. Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 28 dicembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Sagittario. Molti miti e poco moto. Di impegni, anche molto piacevoli, ne avete in programma una marea, alcuni impellenti, ma più che d'azione oggi siete in vena di sogni, fuggire lontano e dimenticare la comoda routine per diventare cittadini del mondo, mentre in casa vostra la lavastoviglie è ancora piena dei piatti della vigilia e di Natale e che dire delle briciole di panettone ancora sparpagliate sulla tovaglia? Ma Giove in sesta casa non ha proprio nulla da insegnarvi? Il lavoro, sia pure solo faccende di casa, vale anche nelle feste comandate. Nervo scoperto coi parenti che vi rinfacciano scelte irresponsabili e vantaggi ingiustificati, urge un chiarimento immediato, la bontà delle feste dura solo due giorni, dopo tutto torna come prima, anche il canino avvelenato. Eventi imprevisti, anche di notevole portata, sul fronte degli incontri ci sono buone nuove, ma anche in amore non mancheranno le novità. Avete bisogno di controllare la situazione e governarla per venirne a capo, mettete in campo tutta la vostra abilità e autorità. Non abbiate timore di tendere la mano a chi ha bisogno del vostro aiuto, o alcuno poi vi ricompenserà abbondantemente. Inutile guardare il passato, guardate avanti e dimenticate quello che è stato e cosa avete sofferto. Il futuro per voi potrebbe essere una garanzia. A patto però che guardiate dritto davanti a voi. Evita sperpero di denaro, investimenti, prestiti incerti e speculazioni. E il momento meno opportuno per spese sconsiderate. Momento sbagliato per chiedere prestiti o piccole agevolazioni, Giove non vi aiuterà in questo. Rinviate richieste a tale proposito, soprattutto se si tratta di mutui. Se vi sentite scoraggiati e sfiduciati sappiate che la giornata di oggi potrebbe essere utile per gettare le basi di qualche progetto che potrebbe darvi, nel tempo, soddisfazioni interessanti e di tutto rispetto. Contatti con persone che si trovano in aziende, grandi istituti, ospedali. Non confondere il reale con l'irreale. Attento alle bugie e ai pettegolezzi. Siete abituati ad avere tutto sotto controllo, sto suppone che ogni situazione vi deve essere ben chiara fin dal principio. Oggi però potrebbero esserci varianti importanti che vi potrebbero far sfuggire di mano situazioni anche di una certa importanza. Nella misura in cui reciderete i vecchi legami con il passato, vi scoprirete in grado di assumere decisioni anche le più radicali. Questo comporterà dei miglioramenti della vostra situazione generale. Poche e buone sono le cose in sospeso che siete chiamati a risolvere, sistemate quante più situazioni in sospeso possibili. Mettete mano al coraggio e affrontate con decisione ogni problema. Quadro planetario che dipinge una giornata per voi avvincente. Mercurio e Marte congiunti nel vostro segno sono oggi i vostri paladini celesti. I due pianeti hanno il compito di farvi realizzare imprese di cui rimarrete totalmente soddisfatti, sia in famiglia come nel privato, nel vostro eventuale posto di lavoro, come in società. Rapporti ottimi anche troviamo con figli e figli, fratelli e sorelle, basati su una pronta capacità di comunicare. Una garanzia offerta dal vostro astro guida giove in sesta casa che, nonostante i bagordi trascorsi e quelli che vi attendono a capodanno, vi assicura una salute di ferro, inclusa quella del fegato, punto debole del segno. Si preoccupa anche della sanità dei vostri conti, il sole, sia pur sparagnino in capricorno, vi garantisce risparmio e guadagni sufficienti per non dovervi preoccupare del futuro. Con tutta la spesa che la vostra esagerazione sagittariana vi ha fatto fare prima delle feste avete ancora tonnellate cibare stipate in dispensa e nel freezer. Potreste sopravvivere anche a un attacco atomico. Amore ed Eros. Un po' di su e giù l'amore ma tra alti e bassi si va avanti, in ogni caso avete l'affetto incondizionato del quattro zampe. Incondizionato si fa per dire, basta quantificare le feste che vi fa prima e dopo la pappa e capirete che. Un filo di interesse sussiste anche nel suo affettuoso coricino. Marte nel vostro segno, vi stimola prontamente a raccogliere una sfida sentimentale che vi è stata lanciata. E che voi raccogliete con entusiasmo. Specie se siete nati nella terza decade riuscite a giocare con strategia e aggiungere poi dritti alla meta. Un mercurio fortissimo eppure al vostro fianco vi aiuta a farvi valere se siete singlese nati nella seconda decade. Il gusto per l'avventura è in voi fortissimo, non vi abbandona davvero mai. Lavoro e denaro. Se siete tra quelli già rientrati alla base per ragioni di lavoro, niente ferie per ora, magari la prossima settimana, in azienda vi sentite comunque tranquilli e anche un filo rilassati, meno genti tra i piedi, ritmi men massacranti, consegne finalmente in tempi umani. Se poi fate qualche straordinario il guadagno sarà ancora più rassicurante, in controtendenza con tutti quelli che si riposano e spendono sotto le feste voi le ferie ve le pigliate più in là, quando i costi del turismo sono dimezzati, dunque si viaggia più a lungo e meglio spendendo la metà. Ritornate in ufficio e la ripresa di attività non vi pesa per nulla, anzi, vi fa quasi piacere sentirvi e rendervi utili nel campo dove esprimete le vostre competenze. Siete liberi professionisti? Mercurio vi aiuta a progettare e andare lontano, guidati da un'intuizione prodigiosa. Notevoli effetti benefici su chi si occupi di cultura, di cinema, di arte. Benessere. Magari il look non sarà eccezionale, ma la salute è perfetta, mangiate con gusto ma senza strafare, prediliggendo la cucina rustica rubata dal ricettario della nonna. Sereno chi se la sta ascialando in baita traccia spolate nel bosco e letture davanti al caminetto, il giardino dell'Eden per la salute anche se senza i fiori descritti dai testi biblici, solo abeti e larici innevati. E vi par poco? Per lei, conti salassati da tutti gli acquisti natalizi e dal viaggetto già in programma per Capodanno, tradoni, golosità e svaghi avete superato i limiti del buonsenso. E ora spuntano le lacrime di coccodrillo. Per lui, allenamento proficuo per la forma fisica, ammesso di non concluderlo con l'ennesima buffata intrattoria. Aime la quarta della settimana. Colore delle emozioni, violetto. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5, attività, 6, finanze, 7, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.